peppa e george fanno un pupazzo di neve per prima cosa costruiscono il corpo george questo è il corpo del pupazzo di neve ora fanno la testa ora ha bisogno di braccia di occhi e di una bocca george ha trovato dei rami per fare le braccia al pupazzo peppa ha trovato dei sassi per fare gli occhi e la bocca del pupazzo di neve questa è la faccia ora al pupazzo di neve serve il naso peppa ha preso una carota per fare il naso al pupazzo di neve il pupazzo sembra molto contento ma forse ha un po freddo al pupazzo di neve servono dei vestiti che lo tengono caldo george ha trovato dei vestiti per tenere il pupazzo di neve al calduccio ora il pupazzo ha il cappello la sciarpa e i guanti di lana mamma papà venite un po a vedere mamma pig ha messo cappello sciarpa e i guanti questo è il più bel pupazzo di neve che abbia mai visto in vita mia papà pig sembra avere freddo non si è messo né cappello né sciarpa né guanti papà come mai non ti sei messo il cappello la sciarpa e i guanti di lana non so dove si siano cacciati non li trovo da nessuna parte credo di sapere dove sono finiti il cappello la sciarpa e i guanti del papà il cappello la sciarpa e i guanti di papà pig sono sul pupazzo per il piccolo alex è l'ora della pappa alex è un giorno speciale sarà la cuginetta peppa a darti da mangiare ecco la tua pappa piccolino dai mangia continua a voltarsi dall'altra parte dare da mangiare al piccolo alex è molto difficile guarda qui ecco che arriva l'aeroplano ad alex piace tanto quando si fa finta che il cucchiaino sia un aeroplano adesso prova tu peppa ecco che arriva l'aeroplano apri la bocca così lui ci vola dentro evviva questo era un aeroplano sai dire aeroplano te l'ho già detto alex non sa parlare alex non ha ancora detto la sua prima parola peppa ti ricordi qual è stata la tua prima parola no è stata mamma mi sembrava che la sua prima parola fosse stata papà no mamma e qual è stata la prima parola che ha detto george dinosaurio la prima parola di george è stata dinosaurio mi sembra che qualcuno abbia aggredito il pranzo e già ora deve fare il bagnetto il piccolo alex fa il bagnetto questo è il signor dinosauro sai dire dinosauro lui non sa ancora parlare peppa ma prima o poi imparerà a parlare così voi saprete che cosa vuole no e adesso che cosa ti andrebbe di fare piccolo alex credo che gli piacerebbe andare a fare una passeggiata beh peppa lui non sa ancora camminare però può uscire con il passeggino che bel passeggino molto pratico eh già cinque marce telaio in lega e abs tutto di serie bla 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 i papà parlano sempre in modo incomprensibile ecco susy pecora rebecca coniglio danny cane zoe zebra candy gatto emilie elefante e pedro pony gli amici di peppa sanno pattinare molto bene anche peppa vuole pattinare ciao a tutti ciao peppa questa è la prima volta che pattini peppa sì vuoi che ti insegni come si fa no ti ringrazio susy sono certa di sapere già come si pattina ok vieni con noi hai un aiuto è assolutamente impossibile non voglio ritornare a pattinare mai più non preoccuparti peppa è normale cadere quando si pattina sul ghiaccio anch'io cado spesso guardami oh perbacco che tontolone oggi ti vada di pattinare con me no Giorgio non ha mai provato a pattinare e ha un po' di paura ci penso io a giorgio tu vai a insegnare a peppa a pattinare pattinare non è difficile peppa devi spingere in piedi e scivolare spingi spingi scivola visto spingi spingi scivola spingi spingi scivola Ma è davvero facile! Adesso posso farlo anche da sola, mammina! Spingi, spingi, scivola! Spingi, spingi, scivola! Ben fatto, Peppa! Guardatemi! Sto pattinando! Peppa se la cava molto bene! Già, sono un'ottima insegnante! Mentre è girata, gli altri si avvicinano! Ma se Peppa si gira e vede che si muovono, devono tornare al punto di partenza! George, ti ho visto! Ti sei mosso! Torna al punto di partenza! Toccata! Ho vinto io! Ti sei mossa prima che fossi pronta! Le regole dicono che mi posso muovere quando voglio! Non è vero, George? Ora tocca a Chloe mettersi di spalle! Peppa e George devono restare immobili! Oh no! Ti ho vista! Ti sei mossa! Ritorna indietro! Non è giusto, però! Hai guardato troppo a lungo! Le regole dicono che posso guardare quanto tempo voglio! Ritorna indietro! È George il vincitore! Giochiamo a un altro gioco adesso? Sì, però deve essere un gioco da grandi! Ma certo! Ora vi farò giocare al mio gioco preferito, che è un gioco molto da grandi! George, tu lo sai qual è il gioco preferito di Peppa? Il gioco preferito di Peppa è saltare nelle pozzanghere di fango! George, se vuoi saltare nelle pozzanghere ti devi mettere le tue calosce! Ho portato un paio di calosce anche per te, Chloe! Sono troppo grande per saltare nelle pozzanghere di fango! Oh, lo sono anch'io! George adora saltare nelle pozzanghere di fango! Anche Peppa vorrebbe saltare in quella pozzanghera, ma vuole sembrare grande! A quanto vedo, qui si salta nelle pozzanghere! Mamma e papà adorano saltare nelle pozzanghere di fango! Sembra molto divertente! Sì, hai ragione, Chloe! Forse c'è una regola che dice che le bambine grandi possono saltare nelle pozzanghere! Sì, ed è una bella regola! Chi arriva prima? Chi arriva prima? Peppa e Chloe adorano saltare nelle pozzanghere di fango! A tutti piace saltare nelle pozzanghere di fango! Perfino alle bambine grandi! La neve, mamma! La neve, papino! Neve, neve, neve! Cosa? Ma noi ci andiamo lo stesso al mare, non è vero, papino? Beh, prima vado a vedere quanta neve c'è! Oh, dove è andato a finire, papino? Oh, guardate, è un pupazzo di neve che cammina! Oh, che freddo! Un pupazzo di neve che cammina e parla! Oh, è soltanto papino! Povero papà, lascia che ti riscaldiamo un po'! Mamma Pig, Peppa e George riscaldano papà Pig strofinandolo con degli asciugamani! Adesso va meglio! Ora possiamo andare a giocare in spiaggia! Ma come si fa con la neve? Non credo che il pullman possa viaggiare oggi! Il pullman della signora Coniglio arriva a casa di Peppa! Cielo, signora Coniglio! Come ha fatto a muoversi con tutta questa neve? Con il mio grande spazzaneve! Lo spazzaneve serve a spostare la neve! Ciao a tutti quanti! Ciao, Peppa! Anche tutti gli amici di Peppa vanno al mare! Prossima fermata alla spiaggia! Evviva! Il signor Toro e i suoi amici cospargono di ghiaia la strada! La ghiaia fa sciogliere la neve! Buongiorno, signor Toro! Buongiorno, signora Coniglio! Abbiamo impiegato tutta la notte! Ma adesso la strada è sgombra! Si può raggiungere il mare tranquillamente! Che bello! Noi stiamo andando proprio al mare! Vuole venire insieme a noi? No, grazie, signora! Abbiamo tante altre strade da cospargere di ghiaia! Arrivederci, signor Toro! Arrivederci! Passate una splendida giornata al mare! Ce ne andiamo alla spiaggia e pirpurrà! Castelli di sabbia e bagna volontà! Ce ne andiamo alla spiaggia e pirpurrà! Mare con i ghenici anche tu! Papà Pig, Peppa e George sistemano le decorazioni in salotto! E' divertente! Per il compleanno di Mamma Pig sono arrivati anche Nonna e Nonno Pig! Auguri di buon compleanno, Mamma Pig! Perché non entri in casa? Ancora non posso! Papà Pig, Peppa e George stanno facendo preparativi in gran segreto! Ma che bello! Ci vediamo dopo! A dopo! Mamma, ti va di rientrare in casa adesso? Finalmente, era ora! Chiudi gli occhi! Mi raccomando, non aprirli, Mamma! Uno, due, tre! Puoi aprire gli occhi! Buon compleanno, Mamma Pig! Che magnifica sorpresa! Spegni le candeline ed esprimi un desiderio! Mamma, mamma, apri il tuo regalo! Riesci a indovinare che cos'è? Non ne ho idea, davvero! Aprilo e lo saprai! Ma è un bellissimo vestito! Sei davvero elegantissima, Mamma! Ora ti manca l'occasione adatta per indossarlo! Che cosa sono? Due biglietti per il teatro, per stasera! Grazie! A Mamma Pig piace molto andare a teatro! Io e Nonna Pig resteremo qui a casa a fare compagnia ai nostri nipotini! Evviva! Che compleanno meraviglioso! Senza dubbio sono la mamma più fortunata del mondo! E senza dubbio la più bella! È mattina molto presto! Che bello! Oggi è il mio compleanno! George, svegliati! Oggi è il mio compleanno! Farò una bellissima festa! E papà farà uno spettacolo di giochi di prestigio! Presto, George! Svegliamo mamma e papà! La mamma e il papà stanno ancora dormendo! Svegliatevi! È il mio compleanno! Sveglia! Ma si può sapere che ora è? È molto, molto tardi! Veramente sono solo le cinque del mattino! Se non ci sbrigiamo la giornata volerà via! D'accordo! Iniziamo subito i festeggiamenti! Evviva! La mamma, il papà e George danno a Peppa il suo regalo di compleanno! Buon compleanno, Peppa! Ma che cos'è? Il vestito di una bambola! Posso metterlo addosso a Teddy? Grazie a tutti! Ah, non c'è di che, Peppa! Non sapevo che Teddy fosse una femminuccia! Oh, papà! Ma certo che Teddy è una femminuccia! Che magnifico vestitino! Grazie a tutti! Non c'è di che, Teddy! Però non lo sporcare, eh! Sai cosa succederà adesso, vero, Peppa? Certo! Ora arriveranno tutti i miei amichetti per festeggiare il mio compleanno e papà farà tanti giochi di prestigio! Nessuno si renderà conto che il mago è il tuo papà! Mi presenterai come lo stupefacente misterio! Lo stupefacente misterio? Sì! Sarò lo stupefacente misterio! Papà ha passato tutta la settimana a provare i suoi giochi di prestigio! Sono arrivati i miei amichetti! Evviva! Ecco gli amici di Peppa! Danny Cane, Rebecca Coniglio, Pedro Pony, Candy Gatto e Susi Pecora! Benvenuti a tutti! Buon compagno, Peppa! Gli invitati arrivano alla festa di Edmond Elefante! Oh, ecco i miei assistenti! Buongiorno, signor Elefante! Direi che la festa può cominciare! Alzi la mano e ti vuole giocare alle belle statuine! Adesso vi dico le regole del gioco! Quando la musica parte, ballate! E quando la musica si ferma, vi immobilizzate come delle statuine! Pronti? Ai posti? Via! Via! Non hai da ballare quando c'è la musica! Tu stai ancora battendo le palpebre! Sei fuori! Occhio, orecchie, po! Ti sei mosso, George! Sei fuori dal gioco! Anche Edmond e Richard sono fuori! Quindi Zaza ha vinto questo gioco! Viva! Hai vinto una medaglia! È una medaglia fatta di plastica dorata! Mamma, abbiamo finito di giocare alle belle statuine! Molto bene! Adesso giochiamo a passa il pacco! Sì! Quando la musica suona, passate il pacco al vostro vicino! Quando la musica si ferma, strappate il foglio più esterno del pacco! Pronti? Ai posti? Via! George! Passa il pacco al vicino! Su! Edmond ha vinto una medaglia! Non perdere tempo, Richard! Anche tu devi togliere uno strato di carta! Richard ha vinto una medaglia! George ha vinto una medaglia! Molto bravo, George! Ma prova a non schizzare così tanto, per favore! Arrivano Rebecca Coniglio e il suo fratellino, Richard Coniglio! Buongiorno, Rebecca! Buongiorno a tutti! Richard, appoggiati a questa tavoletta! Potrai esercitarti a sbattere le gambe! George, vuoi provare anche tu a sbattere le gambe? Siete bravissimi, ma cercate di non schizzare! I bambini grandi non schizzano! Noi siamo molto bravi a nuotare! Quando George e Richard avranno la nostra età, nuoteranno bene proprio come noi! Non è vero, Rebecca? Sì! Richard gioca con l'annaffiatoio! Ehi, smettila, Richard! Accipicchia! Richard ha fatto cadere l'annaffiatoio in acqua! Mamma! Mi dispiace, Richard, ma io non ci arrivo! È caduto troppo in basso per me! Mamma! Io non so nuotare sott'acqua! Neanche io ho mai imparato a nuotare sott'acqua! Tienimi gli occhiali un attimo, mamma Pig! Ehi! Ehi! Ediva! Ecco l'annaffiatoio! Qui! Qui! Ottimo lavoro, Papa Pig! Modestamente, sono piuttosto bravo a nuotare sott'acqua! Giocare con l'annaffiatoio è da bambini! Noi vogliamo salire sul trampolino e tuffarci! Mi dispiace, Peppa, ma sul trampolino possono salire soli grandi! Oh! George ha trovato gli occhiali di Pedro! Oh! Che tontolone! Ecco, tieni! Grazie! Pedro, come mai tu porti gli occhiali? Perché devo! È quello che mi ha detto l'ottico! E che cos'è un ottico? Il mio papà è un ottico! Lui controlla se le persone vedono bene! Come? Può vedere dentro la mia testa? No, fa un esame della vista! Vuoi che ti faccia un esame della vista? Sì! Fammi un esame della vista! Ok! Interessante! Chiudi un occhio e poi dimmi cosa vedi! Riesco a vedere... George! Ora chiudi tutti e due gli occhi! Adesso non riesco a vedere niente! Non riesci a vedere! Davvero molto interessante! Mi sa che devi mettere gli occhiali! Oh! Sul serio? Sì! Pedro! Andiamo a casa! Ciao, Pedro! Eh! Ciao, ciao! Mammina! Devo mettere gli occhiali! Cosa? Pedro mi ha fatto un esame della vista! Devo mettere... Gli occhiali! Sono sicura che ci vedi benissimo! No, mamma! Perché quando chiudo tutti e due gli occhi, non riesco a vedere niente! Nessuno è in grado di vedere con entrambi gli occhi chiusi! Che cos'è questa storia degli occhiali? Pedro conosce tante cose sugli occhiali! Il suo papà è un ottico! Va bene, Peppa! Ti porterò dall'ottico che ti farà l'esame della vista! Andiamoci subito! George! Vuoi fare anche tu l'esame della vista? No! E vive lì dentro? Eh, certo! Quella è la sua casa! Guarda! Sta uscendo di nuovo! Buongiorno, signora lumaca! Senti, nonno! C'è anche un letto nella casa della signora lumaca! Oh! No! Non c'è! Se io fossi una lumaca, avrei un letto, avrei un tavolo, avrei una sedia, avrei un frigorifero e anche il televisore! Nonno, che cosa mangiano le lumache? Ecco, mangiano soprattutto le mie verdure! Ehi! Smettila! Briconcella! Senti, nonno! George e io vogliamo giocare ad essere delle lumache! Usate questi cestini come se fossero i vostri gusci! Fatto! Anche voi ora sembrate due lumachine briconcelle! E adesso ci metteremo a mangiare tutta la lattuga di nonno Pig! Oh! State lontani dalle mie belle verdurine, piccoli birvanti! E quando nonno Pig inizia a brontolare, ci nascondiamo nelle nostre casette! Sono arrivati gli amici di Peppa! Buongiorno, nonno Pig! Buongiorno, Susi! Per caso siete venuti a giocare con Peppa e con George? Sì! Beh, non ho idea di dove siano finiti! Sono rimasto solo con queste due lumache, vedete? Stavamo facendo finta di essere lumache! Possiamo giocare anche noi? Non credo di avere abbastanza cestini per tutti quanti! Però potreste far finta di essere una cosa molto interessante che abbiamo in cortile! Una carata! Rebecca Coniglio adora le carote! Oggi faremo un gioco molto più bello! Peppa ha portato la sua barchetta! Anche George ha portato la sua barchetta! Prima dobbiamo darle la carica, George! La barca di George ha un meccanismo a molla! Coraggio, forza! Metti subito la barca in acqua, altrimenti si scaricherà! George adora la sua barchetta! Mamma, dai la carica anche alla mia? La tua non ha bisogno della carica, Peppa! Quella di Peppa è una barca a vela! È il vento che la fa muovere! Non mi piace la mia barchetta! È ferma e non fa un bel niente! Il problema è che non c'è un filo di vento! Forse ha bisogno di un aiutino! Soffierò, soffierò e vedrai come si muoverà! Evviva! Andava velocissima! Peppa adora la sua barca a vela! Sta arrivando un'amica, Susi Pecora! Ciao, che fate? Ciao, Susi! Stiamo giocando con le nostre barchette! Io ho portato il motoscafo! Per caso funziona a molla? No, ci sono le batterie, vedi? Il motoscafo di Susi si muove grazie alle pile! Oh! È davvero una bella barca! Scusi, signora Anatra! Arriva Danny Cane insieme a suo nonno! Buongiorno a tutti! Buongiorno, Danny! Mio nonno ha costruito questo battello e me l'ha regalato! Oh! Accipicchia! È davvero splendido! Ma come funziona? Come quelli veri, col vapore! Basta spingere questa levetta! Wow! Che fantastico battello! Guardate! Quello è Danny Cane! E c'è suo nonno con lui! Anche Danny e nonno Cane sono rimasti bloccati! Ciao, Peppa! Buongiorno, Peppa! Noi siamo stati invitati a pranzo a casa dei miei nonni! Ma faremo tardi come sempre! Hai visto? È già l'una in punto! E sono in ritardo! Fanno così ogni volta! Le tue patate sono pronte? Hanno bisogno di cuocere ancora per un po'! Pronto? Con chi parlo? Ciao, sono Papa Pig! Siamo rimasti bloccati nel traffico! Non preoccuparti! Siamo in alto mare anche noi! Nonno ha esagerato un pochino con le patate! Vi aspettiamo! Poveri cari! A quanto pare sono bloccati! Così avrò il tempo di andare a raccogliere un altro po' di patate nell'orto! Non cambi mai, eh? Stiamo andando troppo lentamente! Non ci arriveremo più dai nonni di questo passo! Peppa ha ragione! Proviamo a cambiare strada! Ma cara, qui non ce ne sono segnate altre! Conosco una scorciatoia! Ciao, ciao! Ci vediamo! Noi prenderemo una scorciatoia! Ci vediamo, Peppa! Buona fortuna! Mamma Pig ha cambiato strada per evitare la coda! Ma è una scorciatoia molto accidentata! È divertente! Sei sicura di quello che fai? Fidati di me! Ciao, anatre! Stiamo prendendo una scorciatoia! Guarda! Ecco la strada principale! Fantastico! Brava, Mamma Pig! Ma come? Siamo ritornati allo stesso punto! Ciao! Bentornati! Accipicchia! A quanto pare la scorciatoia non è servita molto! Sono venuta a prendere le vostre cose per la grande svendita! Ecco qua! Grazie! Senta, le interessa questa poltrona? Oh! Quale generosità! Arrivederci! Arrivederci! Mamma, hai dato via la vecchia poltrona di papà! Shhh! Non dirglielo, se no se ne accorgerà! È arrivato il giorno della grande svendita! Ciao! Salve, signora coniglio! Peppa! Che ne dici di questa poltrona? Lo so, è vecchia, ma la puoi fare a pezzi e accendere il fuoco nel camino! È una poltrona antica! Davvero? Il mio papà dice che vale tantissimi soldi! Non l'avrei mai detto! Vorrà dire che aumenterò il prezzo! Arrivederci! Ciao a tutti! Ciao, Peppa! Tu che cosa hai donato, Susi? La mia maglietta da infermiera! Io un palloncino con il pappagallo! E io questa cimbia di pezza! Oh, mi mancherà la mia scatola sorpresa! Posso comprare la scatola sorpresa, per favore? Io invece vorrei la maglietta da infermiera! Il palloncino con il pappagallo è mio! Mamma, mamma! Guarda cosa abbiamo comprato! Ma sono i vostri vecchi giocattoli! Ci mancavano tanto! Ragazzi, guardate cosa ho comprato! E' una vera poltrona antica! Oh, papà Pig! Quella poltrona non è antica! Sì che lo è! Me l'ha detto la signora Coniglio! Starà bene con la mia vecchia poltrona! Ovvio, papino! Perché quella è... Shhh! Peppa! È proprio la tua vecchia poltrona! Cosa? Ma la signora Coniglio me l'ha appena fatta pagare un sacco di soldi! Meravigliose notizie per tutti! Siamo riusciti a raccogliere il denaro necessario per il nuovo tetto dell'asilo! Evviva! Grazie, signor Pig! Oh, 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 oh! È stato un piacere! Mi piace! Peppa, se ti piacciono le bolle, perché non vai a giocare con quelle di sapone? Sì! Adoro le bolle di sapone! Giorgio, andiamo a giocare in cortile! Vieni! Peppa insegna a George come fare le bolle! Allora, prima di tutto, immergi il bastoncino! Poi, fai un bel respiro! E... soffia! Una bolla! George, adesso prova a farne una tu! Immergi per bene il bastoncino nel sapone! Sollevalo! Fai un bel respiro! E... soffia! George si sta impegnando molto, ma ormai gli manca il fiato! Giù! George, non hai soffiato abbastanza forte! Se non ci riesci, puoi provare in un altro modo! Immergi il bastoncino nel sapone! Sollevalo... E muovi il braccio! Tante bolle! È più divertente se ti metti a correre! Aspettami! George si diverte a fare le bolle, mentre Peppa le fa scoppiare! Adoro le bolle! Oh no! È già finito il sapone! Papà! Mamma! Il sapone per le bolle è finito! Non preoccuparti, Peppa! Mi è venuta un'idea! Mamma Pig! Va a prendere un secchio, per favore! Va bene, papà Pig! Peppa! Del detersivo! Vado, papà Pig! George? Tu invece portami una racchetta!